Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! 5 minuti di nuovo. Rafforzati! Non, 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 non... ...non, non, 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 non... Sì! 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 Mi dovete prendere il cazzo! Salve! Buonasera! Prendete il pallo e il mucchio! E' un pochino! E' un pochino! Mi sa che sono i primi... Non me ne fotte un cazzo! Sì! Voi sei! E quindi niente! Madi non lo scopriamo! Non può scopriare! E' impossibile! Perchè dopo un tot di tempo l'auto sparisce! PRA! No! Perchè la gente la vede in mare e la tira pone! Non madi! Non c'è che la scioglina! 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 Vieni! Vieni! C'è stato un problema! Sali compa! Non siamo qui Come fate a non essere qui 114 per 50 Stanno fregando la macchina Voglio dire V'hanno fregato la macchina Cosa stai facendo tu Cosa stai fa Si sono fottuto il furgo nel gatto Ma ti hanno fregato pure il gatto Soprattutto il gatto No no Quanto mi dai se te li rivolgo Ritornando da suoni Ma perché se la macchina fa la muta Scusatemi Pronta Passi a casa Arrivere Ciao Vi dispiace se vi prendo una moto Che c'ho un po' da cosa da fare No 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 va bene una moto Fa come ti pare tranquillo Hoaxo Cioè tu guardi Hoaxo Hoaxo Sì Hoaxo Sì Hoaxo Sì Hoaxo fatto fatto l'ho fatto l'ho fatto dai questo è il figlio di toni lo scemo solo che non è pelato e c'è i capelli amore ha scelta la braccia ma così davanti a tutti non è che abbiamo fatto partire eh niente una volta arrivati in centrale la 23 è già di centrale ok così iniziamo a smaltire l'unità che sono solo due RF ricordati rispetto e onore sempre per chi ti sta a fianco no mamma guanagana isliuta ricordo sempre la svidania mamma guanagana che troll di merda ma che è un delfino cos'era quello? sono io sono io che cazzo hai fatto? perché è bravissima ma sei una tossica io si amo questi veicoli qua ok sono troppo forti bene posso raccontare la mia storia ah se volete ci metto anche una canzoncina sotto un po' carina ma mi piace la musica ma parla o no? a un modo particolare di lavorare ma per l'età che ha incredibile comunque è sempre attivo ma cosa sta cercando? no Frank lo sta strappando insomma lo sta strappando lo strappa si no raga stava stava facendo asciugar la colla del coso se non ti dovesse piacere com'è andata come sta andando basta che mi dici la parola menta qualsiasi ma? oh cazzo no mi stavo chiudendo la visiera io non so cosa mi sia preso sono desolato mi dispiace mi stavo chiedendo la visiera e l'attenzione no 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 mi deve spiegare niente lo capisco non si preoccupi non c'è problema in questo momento di debolezza con questo fisico è normale che attira qualcuno non è un problema in qualsiasi caso lo stavo dicendo basterà dire menta in qualsiasi discorso se io far c'hai quella cosa là che cosa? in che cosa? aspetta che appena è apparso un Pikachu salvato te lo chiamatelo in secondo ma come va fatto uno capriola ma chi mi ha ammazzato scusa? ma chi mi ha ammazzato scusa? ho fatto la capriola regà ho parato il radio e ho fatto la capriola l'ho fatto l'ho fatto capriola è fatto uno però non capisco chi mi ha ammazzato sinceramente campanavita fallomo occhio occhio che si scendono no fida l'hanno detto non scenderanno mai si fidati ora vedi oh cazzo le mani le mani fatto uno capriola ma chi mi ha ammazzato scusa ma chi mi ha ammazzato scusa? ecco la ecco la l'amoro aveva fatto il buffo ecco perché cucciola siamo ma ci siamo questo è il figlio di Tony Lusham amore è scelta il verano abbraccio amore solo che non è pelato e c'è i capelli amore è scelta l'abbraccio amore alicia l'acqua è scelta l'acqua a l'acqua ma perché era spenta era era spenta no ma era spenta dai abbiamo avuto dei problemi riguardante tutta quanta l'ingegneria dell'elicottero abbiamo dovuto sostituire l'elicottero e ora siamo qui capo glielo giuro ma glielo portato sano e salvo come ha chiesto lei ma ma ne morda a me non piacciono i ritardi dopo ne parliamo a ok no anzi non ne parliamo mario è così che mi piace risolvere problemi è stato non avete visto un cazzo zero siete no si parli più ti sei siete capito al mito se sono già di alzare contro mamma ce le sai anche se ti sblocco io